Benvenuti nel canale Meli Made in Sud Sì, sono vestita come il video che avete... non lo so se l'avete visto Non ci fate caso, non ci fate caso Allora, avevo qualche minuto a disposizione dopo aver registrato e mi son detta Melania perché non fai un mini o un video all tigota? Sono veramente tre cose, proprio tre cose di numero e di fatto, però siccome possono essere così degli spunti interessanti in realtà avevo voglia di fare qualche chiacchiera, proprio la verità e quindi ho detto registriamo Allora, sono andata ad Atigotà con l'obiettivo di trovare un buon contorno occhi ve l'ho detto nel video dei prodotti finiti in realtà vi ho chiesto anche consiglio mi avete risposto in tantissime, sia pubblicamente che in privato io vi ringrazio pubblicamente, come ho fatto già in privato veramente mi sono arrivati tantissimi consigli, tantissime dritte e tanti consigli mi hanno indirizzato proprio da Tigotà in realtà io volevo prendere il contorno occhi del marchio Lettriadi correggete se sto dicendo una stupidaggine ma siccome Tigotà ha aperto da poco sto prendendo ancora familiarità con i marchi che rivende quindi correggetemi se sbaglio solo che non c'era la tipologia di contorno occhi ho visto che lo scatolino è abbastanza lungo non c'era la tipologia di contorno occhi che volevo io e quindi mi son detta provo a vedere qualche altro marchio mi ha aiutato anche Dori la mia amica Dori Dori ti mando un bacio grande grande ho detto dai ti mando qualche foto di qualche contorno occhi le ho inviato anche qualche lista ingredienti e visto che lei ha esperienza nell'ambito contorno occhi creme, cremine e queste cose qui mi ha indirizzato sul prodotto che poi alla fine ho scelto ed è anche secondo me un giusto compromesso tra il prezzo perché comunque costa poco siamo sui 6 euro e la qualità e la varietà degli ingredienti allora io ho scelto il marchio Natura Verde Natural Beauty Bio Organic Bava di Lumaca quindi è tutta una linea ci sono tutti i prodotti per la skin care a base di Bava di Lumaca io ho preso ovviamente il contorno occhi rigenerante intensiva quindi la specifica è rigenerante intensiva 98% di origine naturale per pelli mature con acido ialuronico e burro di karité bio ha anche il certificato ECEA ed è un contorno occhi da 15 ml io mi avvicino e ve lo faccio vedere questo è il contorno occhi ora vi mostro anche la lista ingredienti qui dice la sua formula ricchita con acido ialuronico e burro di karité bio proveniente da agricoltura biologica certificata aiuta a contrastare i segni del tempo nella zona peroculare attenuando le prime rughe la Bava di Lumaca grazie alle sue molteplici proprietà leviga ed illumina la pelle conferendo al contorno occhi un aspetto più tonico e compatto modo di utilizzo applicare ogni giorno nell'area del contorno occhi picchiettando delicatamente dopo aver pulito la zona da trattare 98% di ingredienti di origine naturale su totale non ha petrolati non ha parabeni non coloranti dermatologicamente testato e le materie prime provenienti da agricoltura biologica sono certificate ve lo faccio leggere io ho utilizzato il contorno occhi ieri sera mi sono struccata ho deterso il viso ho eseguito la mia skin care e poi ho applicato questo contorno occhi devo dire che la prima applicazione mi è piaciuta non ho avuto fastidio bruciore nessun tipo di irritazione sotto l'occhio devo dire che mi è piaciuto e ha ovviamente presto per poter effettuare una recensione ma devo dire che in base alla prima applicazione ha un giusto compromesso tra la leggerezza e la corposità di conseguenza il contorno occhi anche al mattino lo trovo idratato ma non appesantito quando io utilizzavo il contorno occhi di Martina Gebhard anche se ne applicavo una giusta quantità anche se lo massaggiavo anche se al mattino avevo la sensazione di di pelle come dire è come se avessi applicato in quel momento della crema idratante non so se mi sono spiegata è come se fosse troppo pesante il prodotto per cui non tutto il prodotto venisse assorbito dalla pelle magari non tutto ma una parte restasse in superficie questo non mi ha dato tale sensazione ma ripeto l'ho applicato soltanto ieri sera quindi prendete tutto con le pinze questo è il contorno occhi è anche molto igienico da utilizzare perché non dobbiamo cucciare le dita all'interno dentro la confezione trovate anche un ho rotto la confezione trovate un foglietto che giustamente soprattutto per chi diciamo è ignorante in in questo tema come la sottoscritta specifica cos'è la bava di lumaca le sue proprietà come e quando nasce e secondo me è molto molto interessante anche magari per allargare la linea di prodotti di questo marchio perché secondo me possono essere dei prodotti validi la prossima volta voglio prendere il detergente per il viso in formato mousse questo credo di averlo pagato sui 5 euro e qualcosa comunque 6 euro e tutto a posto poi avevo bisogno di un bagno schiuma ma un bagno schiuma da veramente battaglia e ho preso un bagno latte addolcente della Nidra io non sono un amante di questo marchio io in passato ho provato qualche detergente intimo ma sinceramente non mi ha fatto impazzire a proposito di detergente intimo vabbè lasciamo perdere tu sai chi sei con latte di fico ed aloe questo l'ho pagato 1 euro e ho 75 1 euro e 85 per 750 per 750 ml nidra è un marchio italiano sentiamo il profumo quando sono tornata a casa l'ho sentito il profumo allora si sente l'aloe allora ha una profumazione molto energizzante molto frizzante e anche pungente si sente l'aloe non proprio cioè non è spiccato ma non lo so sarà un asmi ma io questo ficante dentro non lo sento cioè io il fico non lo sento non lo so provai in passato anche un non mi ricordo se era bagno latte bagno doccia bagno schium della cop quella base di fico tu quando ricevi profuma profuma di fico profuma di fico ma questa ha giocattato le tre voto ma questa profumazione di fico non la sento proprio neanche qua sento il fico può essere un momento salato se sente questo profumo di fico ma che va già rigido questo ficante dentro non lo sento vabbè lo scopriremo ci laveremo qualche volta e lo useremo e poi finalmente sono andata da Ticotà e ho trovato tutti gli ammorbidenti della tesori d'oriente perché quando era avuto Ticotà ogni volta che trasevo trovavo o solo qualche referenza degli ammorbidenti concentrati dei sorridori e dopo trovavo proprio niente mamma mia c'è sempre una mazzata in gru ieri mi sono consolata perché erano tutti lì davanti a me mi guardavano dicevano prendimi prendimi e ho chiesto una consultazione non astrale perché non ci credo ma ad Ilenia Ilenia ti mando un bacio grande grande la trovate su Instagram con il nick le perle di Daphne e trovate anche il suo super interessante blog ha proprio questo questo nick e lei ha sempre parlato bene di queste ammorbidenti soprattutto di due profumazioni questa al muschio bianco che è la sua preferita e ho acquistato questa e poi c'è la versione celeste azzurra celeste e turquoise turquoise però non mi ricordo che la credo non mi ricordo comunque anche quella mi ha detto essere veramente buona ma ecco la sua preferita è questa versione e ho preso la versione muschio bianco profumo intenso lunga durata tesori di oriente ammorbidente aromatico 30 lavaggi formula concentrata questo qui questo l'ho pagato 1 euro e 75 me lo ricordo sentiamo il profumo già l'ho sentito quando sono tornata ieri mamma mia com'è bella ilenia avevi ragione ha una profumazione fresca avvolgente intensa suave sensuale mamma mia ma è un profumo non è un ammorbidente questo è un profumo sembra quasi un bagno schiuma veramente è ottimo a me il profumo mi fa impazzire quindi se volete seguire le mie orme che a mia volta ho seguito le orme di lenia provate questo stavo dicendo bagno schiuma questo ammorbidente aromatico però poi voglio provare anche la versione celeste barra turchese perché tutti gli ammorbidenti o neutri o colorati in azzurro celeste blu sono i miei preferiti in assoluto questi sono stati i tre prodotti che ho acquistato da da tigota il video è giusto per fare per fare due chiafacchiere per farci compagnia quindi spero di avervi tenuto compagnia noi ci vediamo al prossimo video come sempre un bacio un abbraccio un tarallino muah